Intermedia e WET sono le due tipologie di gomme da bagnato fornite dalla Pirelli per questa stagione. L'intermedia ha battistrata caratterizzato da intagli leggeri su tutta la sezione del pneumatico. Quella da bagnato ha una tasselatura asimmetrica più fitta nella fascia esterna in giallo, con un canale centrale e due più piccoli nella sezione interna rossa. Diversa anche l'altezza della scolpitura, 3 mm per l'intermedia, 5 per la WET, destinata a lavorare con superfici parzialmente allagate. Il drenaggio dell'acqua con pista allagata fino a 2 mm viene gestito con il pneumatico intermedio. Con fondo bagnato fino a 5 mm, la WET è il prodotto più indicato per la maggiore capacità di espulsione d'acqua. Entrambe le soluzioni garantiscono sempre l'ottimale area di contatto asciutta, che assicura elevati standard di sicurezza. In pista, con la monoposto che viaggia a 300 km orari, il pneumatico intermedio è in grado di espellere 20 litri d'acqua in un solo secondo. La WET triplica questo valore, arrivando a drenare fino a 60 litri d'acqua al secondo.